Questo è l'ufficio meteorologico della base di Siconella, noi svolgiamo il nostro servizio soprattutto per i nostri piloti ovviamente che vengono e chiedono informazioni meteorologiche sia a livello nazionale che a livello Nato, svolgiamo il nostro servizio 24 ore su 24, diamo assistenza a tutta la popolazione e anche alla protezione civile della Sicilia, vediamo l'altezza delle nubi, la quantità delle nubi, la visibilità attorno all'aeroporto, abbiamo anche altri parametri che inseriamo per la meteorologia aeronautica ma anche per la meteorologia sinottica per quanto riguarda più che altro i cambiamenti climatici che si potrebbero avere nella nostra zona. Abbiamo avuto praticamente una tromba d'aria presente sull'area nord catanese che con venti di particolare intensità ma abbastanza localizzati. Perché? Perché tutto sommato l'area mediterranea ha un bacino soprattutto di mare molto più piccolo e quindi differenze di temperature molto meno marcate e quindi i fenomeni sono più localizzati. Per quanto riguarda le tromba d'aria la situazione è molto diversa, è molto differente perché la problematica è che sono localizzati. Noi abbiamo un sistema di osservazioni molto ampio in Italia ma in tutto il mondo. Molte zone però soprattutto ovviamente il mare non abbiamo dati e quindi non possiamo immettere questi nostri dati nel nostro cervellone elettronico e quindi non possiamo avere una situazione reale. Noi facciamo una simulazione dell'atmosfera. Un esempio che molte volte faccio è che tra Gela e Trapani praticamente non abbiamo nemmeno una stazione metrologica. Ovviamente l'estensione del territorio è particolare. Quindi un cambiamento di temperatura o di pressione in questa zona noi non la possiamo rilevare. Quindi i nostri sistemi non la rilevano. Un cambiamento in tal senso può provocare un fenomeno particolarmente intenso. La cosa molto importante è che noi adottiamo dei parametri per tutte le nostre stazioni metrologiche. L'Organizzazione Mondiale ci ha dato dei parametri e ci comportiamo di conseguenza. Cioè le nostre stazioni sono uguali in tutto il mondo. Per quanto riguarda invece la problematica della dislocazione, vengono inserite tutte queste stazioni metrologiche in funzione di vari parametri di omogeneità del territorio. Ovviamente bisogna anche rendere conto del budget a nostra disposizione. Noi abbiamo un sito www.meteoam.it È il nostro sito, quindi ovviamente ci mettiamo tutta la nostra professionalità e la nostra competenza. È aperto, molte aree sono aperte a tutti quanti. Ovviamente abbiamo anche un'area a noi dedicata, però molte informazioni sono presenti in questo sito. Ognuno fa quello che vuole, oramai la rete è aperta a chiunque. Diffidate ovviamente da chi non ha una preparazione adeguata, poi ognuno può seguire qualsiasi opinione.